Hola a todos amigos e bienvenido in questo nuovo video de FabiJ Altro episodio di Game Tester dopo un mesetto ormai in appuntamento fisso Prima di cominciare ragazzi nomino il Game Tester del mese Che questo mese è stato vinto da Lorenzo D'Acefalù Bravo Lorenzo c'hai un nome bellissimo complimenti ti ho scelto per il nome perché è bello Ma poi ragazzi a parte gli scherzi cominciamo con il gameplay di oggi Ma prima di cominciare Sigla Il cartone di oggi ragazzi è Gumball per chi non lo conoscesse Il primo videogame su Gumball è battaglia ai birilli Che con la palla da bullying in mezzo sembra battaglia ai birilli Vabbè ragazzi facciamo una partitina giusto per capire abbattili tutti Vabbè ragazzi a sto punto scegliamo Gumball che mi sembra il più bilanciato Usa WASD per muoverti Ah posso muovermi proprio che figo Ben fatto ora usa il mouse per puntare e sparare al birillo cattivo Oddio quanto era cattivo questo birillo a recuperare la palla Devo anche andare a recuperarmi la palla Mazza che fastidio Non c'ho sto strazio neanche quando mia madre mi dice di pulire la camera Devo anche andare a raccogliere la palla Fantastico Eh però è carino c'è nel senso di sopravvivenza tipo Spacco tutto vai così Che belli che sono quando Superato Ah perché a livelli io pensavo fosse senza fine Usa i tasti per cambiare Ah posso cambiare il personaggio Ma veramente Ma dai ma che bello Quindi posso No vabbè ma è fantastico Spazio per schiacciare Posso schiacciare Le robe belle Dio mio ragazzi Sono diventato un fenomeno Cioè non sapevo di poter fare sta cosa Ma eh quindi E la tipa cosa fa invece? Cioè ognuno c'ha la sua magia Fantastico Non morirò neanche una volta Già lo so Ciao È stato bello Bella zi Vai 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 La combo di tre ragazzi Mamma mia Eh però dovevo ucciderli La combo di quattro Fermi voglio fare la combo di quattro C'è cinque Eh vabbè è troppo Vabbè tre va già Oddio Mi ha beccato no 26 morti 7 Ho fatto una combo di 6 Mira perfetta Eh va bene Anche in biliardo C'ho sta proagine Ragazzi mi hanno cerchiato la palla Non ce la faccio C'ho una vita sola Una strage ho fatto Vai così zio Vai così Va che roba Roba Oddio Quello è morto da solo È scemo Grande frate È diventato difficile però Il quarto era difficilotto Ah adesso ci sono pure gli ostacoli Fantastico Sta diventando difficilotto eh ragazzi Però ce la faccio Cioè dio mio spero di farlo No come no Stavo scherzando Ok Meraviglioso Ragazzi lei è veramente lenta Non riesco a muovermi Cos'era una mossa da ballerina Vai 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 No Cos'è questo Ah no era l'avviso che mi stava arrivando il nemico Sono un genio Ci sono andato sopra Ragazzi sono morto Io ve lo dico Sono morto Lo so già eh Ma no no Sì grande Brava ragazza mia Bravissima Ok Tre palle Ah multipalla Cosa vuol dire Ce n'ho solo una Aia Oddio Così Chi è quello Senti zio Ti devo schiacciare Ok Muori Bravo frate Avete una fine Vi prego Yolo Sì Oddio Si apre il tombino Fantastico C'è la serie che Se ci butto la palla Eh lo sapevo Ma io posso essere più genio Ma più genio Ah grazie Grazie No perché se non me la ridava Stavo messo male Oddio Ciao E vabbè però loro non cadono Com'è sta storia Cadi solo quando mi devi far scomodo Aiuto Ho fatto una strada Combo per nove Palla pazza Cosa vuol dire Oddio Ah Ultima Fantastico C'è io raga Io e la fortuna Siamo una cosa sola Per l'amor di dio In realtà sono tutti distanti Non serve a niente Oddio Oddio No 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 Ok Casino Ho fatto casino Meno male Ve lo dico non ce la farò mai Non ce la farò mai No mi si è incastrato Aiuto Aiuto Zio no 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 Dai su su Carca vacca No dai Non vale Mi si è sfasata la pagina Palla nel canale Ci riprovi giusto Ma guarda In realtà ci vorrei riprovare Però mancano un sacco di livelli Se no il video dura sei anni Quindi per ora direi che posso concludere qui Con questo videogame Devo ammettere che fino adesso è stato uno dei migliori Che ho provato su Cartoon Network Perché è uno dei più competitivi sicuramente Quindi da game tester lo straprovo D'accordo ragazzoli Passiamo al secondo gioco di oggi Che è schiva i vestiti Allora Credo ragazzi che sarà difficile battere quello di prima Quello del bullying Perché è uno dei migliori sul serio fino adesso Richard è determinato a superare il record mondiale di Tempo passato in mutande Quel record ce l'ho io Credimi Non lo batte nessuno Ma la sua famiglia ne ha avuto abbastanza Guarda com'è contento di scappare Senza le braghe Bravo zio E vabbè Ah quindi usa le frecce per salire La grafica ragazzi è fantastica Perché hanno preso una foto La foto di una casa vera Fantastico E Ah devo schivare i vestiti giusto? Solo per il ballo e il gioco dell'anno ragazzi Solo il ballo Ma perché deve cambiare lo scenario ragazzi? Evitiamo i vestiti che è meglio Perfetto Ma non è così facile come sembra eh ragazzi Cioè ma io sono un fenomeno nato Quindi vado velocissimo Vai 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 No Stavo scherzando Che record ho fatto 48 Farò anche 300 stavolta Si accettano scommesse sul 300 di Favij 100 ragazzi siamo a 100 Oddio Oddio No No Sono un idiota Mi ha messo ansia che saliva in fretta No vabbè ce la posso fare Scusate ragazzi non dico niente ma mi sto concentrando L'ho presa seriamente sta cosa No 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 Sì sì come lo seminato Stavo scherzando Ah Vai 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 Vabbè vabbè ma neanche mia mamma mi rincorre così tanto quando non c'ho le mutande Cioè no io non è che giro senza mutande Giro con le mutande però Ragazzi 163 Devo arrivare a 300 Se no non sono contento 300 io l'ho detto eh L'ho detto e lo faccio Non è che dico cose che poi non faccio 160 devo battere il record Ma stai non Fate retro 172 record Record Ma perché mi prendono Ragazzi ma perché non potete lasciarmi in mutande Cosa c'avete contro le mutande Negozio Ma ditelo prima ma che ne so io Ti posso comprare gli occhiali Mettono in gioco le monete di platino Prendi le cuffie se non compro io le cuffie che c'ho le cuffie Prendi un passaggio da un palloncino Ragazzi io stavo arrivando a 200 Facciamo 300 dai Torniamo sul 300 Eh ma se è così Ragazzi io stavo arrivando a 200 Facciamo 300 dai Torniamo sul 300 Stavolta lo faccio Lo faccio Lo faccio ragazzi Lo faccio Non vale più il record del 200 Di nuovo il 300 Perché non sapevo ci fossero le cose Ok Che bello il palloncino Tra l'altro è bellissimo No 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 Eh vabbè Veloce 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 Vabbè ma è impossibile Ragazzi a un certo punto diventa impossibile Vabbè ragazzi il cappello di stagnola Questo non C'è il moltiplicatore Cosa vuol dire? Che c'ho più roba? Ok allora col moltiplicatore dovrei riuscire ad arrivarci Si spera Vai 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 Si Si 200 Ti prego trova qualcosa Trova qualcosa No no Si 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 No no si è bloccato Pro gaming Pro gaming Ho vinto tutto dalla vita Grazie Mamma cosa ho fatto Cosa ho fatto Sono troppo fatto Bravo zio Bravo Raga non ne posso so È stata l'esperienza videoludica Più difficile degli ultimi anni Vi giuro Complimenti anche a Gumball Ed iscriva i vestiti È veramente bello anche questo Cioè tra i due se la giocano Comunque ragazzoli Questi erano i videogame Da game tester di questo mese Se volete partecipare anche voi Come game tester del mese Come ogni mese Potete trovare i giochi Sul sito di cartoon network Ed essere anche voi game tester E tentare di vincere anche voi L'edizione di game tester Per il prossimo mese Comunque sia ragazzi Il video che state vedendo Verrà anche trasmesso Sul cartoon network Se state guardando questo video Da cartoon network Ciao mamma In tv In teoria Dovrei riuscire a toccare I bordi dello schermo Del televisore Così La smetto Sì la smetto E sarà anche presente Sul canale youtube Di cartoon network Come i video dei game tester Quindi ragazzoli Spero che il video vi sia piaciuto Come al saluto Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Anche la pagina di facebook Come nei video Tratta nella descrizione Se non sono i suoi risultati E ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Sigla di chiusura Ciao